In campo contro il covid, il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, componente dell'unità di crisi, ha evidenziato proprio su questo fronte ed anche da sindaco del comune di San Valentino Torio, il grande lavoro che si sta svolgendo su tutto il territorio provinciale, anche a colpi di ordinanze restrittive, per limitare il contagio in questa terza ondata alle prese con le varianti. La conferenza stampa di bilancio delle attività della Polizia Provinciale è stata occasione questa mattina per tracciare un bilancio del grande lavoro svolto anti-coronavirus. L'obiettivo dichiarato del presidente Strianese è tentare di salvare la Pasqua. Sapete, il presidente della provincia fa parte del tavolo istituzionale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dal primo giorno io sono stato presente al fianco del prefetto, del questore, dei carabinieri e di tutte le altre autorità militari per dare una mano su questa questione del Covid. Sono necessarie, secondo lei, presidente, ulteriori limitazioni? Si parla di chiudere ancora? Serve? Ma la situazione in Campania è molto molto delicata, come ben sappiamo siamo ormai diventati zona rossa. I sindaci nei vari comuni stanno agendo ulteriormente con ulteriori restrizioni. Io stesso anche a San Valentino Torio ho dovuto fare altre ordinanze, un'altra in vigore da stamattina. Credo che sia necessaria una stretta in questo mese di marzo per provare a limitare il contagio e soprattutto far scemare l'aggressività di queste varianti. Salveremo la Pasqua? Speriamo di sì. L'augurio è questo, cercare di salvare la Pasqua e anche per questo la Polizia Provinciale si impegnerà ulteriormente al fianco della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza per poter controllare al meglio il territorio provinciale.